10 5 4 3 2 1 30 molta attenzione tornante destro no diventa 4 giù no 30 molta attenzione tornante sinistro no 30 molta attenzione sinistra 4 chiude lunga e molta attenzione stretta sinistra 1 chiude molto no 30 sinistra 5 lunga lunga 80 occhio sinistra 5 lunga su dos 80 molta attenzione sinistra 2 chiude molto in destra 2 chiude molto in sinistra 2 chiude 100 stai al centro molta attenzione dosso subito destra 2 chiude molto lunga no in sinistra 4 giù lunga no su dosso e molta attenzione sinistra 2 chiude molto 200 molto attenzione destra 4 chiude su dosso 30 molta attenzione destra 3 giù chiude in sinistra 4 giù su dosso 30 destra 5 su dosso in sinistra 4 giù lunga chiude 30 molta attenzione destra 4 chiude in sinistra 2 chiude 30 2 chiude destra 4 giù 80 sinistra 5 in destra 5 lunga su terra 30 molta attenzione sinistra 4 chiude 30 destra 4 giù lunga poi chiude no in sinistra 5 30 destra 4 giù lunga 80 stai a destra su dosso 100 occhio destra 4 giù chiude 50 molta attenzione destra 2 chiude su dosso 80 molta attenzione sinistra 3 chiude 50 dosso e subito sinistra 3 chiude 50 molta attenzione shikan stai a sinistra 50 destra 3 chiude molta attenzione 80 occhio destra 4 chiude 50 destra 5 lunga 30 molta attenzione stai a sinistra destra 2 chiude per sinistra 1 chiude 50 occhio destra 4 giù salto 100 con dosso stai al centro e sinistra 4 giù lunga in destra 5 lunga 30 molta attenzione sinistra 1 chiude su dosso 30 sinistra 5 lunga su dosso in occhio destra 3 chiude molto e sinistra 3 giù chiude e dosso 50 molta attenzione sinistra 4 chiude 30 molta attenzione dosso con subito destra 3 chiude 50 e dosso con subito destra 4 chiude 50 fine grande bravo 2 meglio stage ecco bravo fari adesso vado io aspetta aspetta che vado a spegnere fare